Thomas Merton continuazione sulla vita monastica è un vivere alternativo la disciplina della vita monastica è tutta orientata verso un unico fine far crescere la purezza di cuore che è una dimensione di pace altruismo umiltà disinteresse verso i modelli e le preoccupazioni di una vita dominata da affanni che rendono schiavi la purezza di cuore non è però il risultato di un impegno individualistico un qualcosa raggiungibile solo con l'introspezione l'analisi del proprio io e più seri sforzi per progredire spiritualmente senza curarsi delle necessità degli altri la purezza di cuore secondo la tradizione monastica non può svilupparsi senza un'umile fraternità nella carità di Cristo questa è la ragione per cui la vita monastica comunitaria con i suoi costanti richiami e servizio disinteressato e alla carità è il mezzo principale per portare il cuore dell'uomo a uno stato di pace dolcezza fede semplicità il monaco tuttavia vive la sua vita comune in uno spirito di solitudine interiore ecco perché in alcuni monasteri come quelli cistercensi viene dato un particolare risalto silenzio alla preghiera la vita nel silenzio nella preghiera non dovrebbe mai creare un senso di conflitto tra l'amore di Dio e l'amore del fratello quando questi si intralciano è l'uno impedisce l'altro il segno che non si conduce una vita davvero monaco in modo pieno e maturo con spirito di fede ma concretamente può essere molto difficile imparare a fare una vita comune fraterna e allo stesso tempo meditare e adorare Dio nel proprio cuore il monaco è un uomo di preghiere di lode la sua vita di preghiera è basata sulla liturgia della chiesa il canto dei salmi e il sacrificio caristico per il monaco la liturgia è la via regale per andare a dio questa è la ragione per cui benedetto disse che niente è da preferirsi è l'opera di dio opus de regola benedicti 43,3 centro della liturgia la celebrazione caristica il memoriale del sacrificio di cristo vittima e sommo sacerdote in mezzo al popolo che si è eletto per capire realmente che cosa sia la liturgia dobbiamo comprendere la vera natura del cristianesimo che cosa è il cristianesimo se non il mistero di cristo in noi il mistero di cristo nella sua chiesa il mistero della nostra salvezza dell'unione con dio in cristo gesù paolo ci mostra il vero significato del mistero tacciuto per secoli eterni ma ora rivelato romani 16 25 26 è il mistero della nostra incorporazione a cristo e il disegno eterno santo di dio padre che ci salva in cristo suo figlio per benedirci con ogni benedizione spirituale nei cieli in cristo poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà secondo la sua benevolenza per ricapitolare in cristo tutte le cose quelle del cielo come quelle della terra la ricapitolazione di ogni cosa in cristo significa la pneumatizzazione dell'intera creazione attraverso il contatto con la sacra umanità del verbo l'uomo dio cristo gesù regna nei cieli mai presente agisce sulla terra nei membri del suo corpo la chiesa chiunque incorporato a cristo attraverso la fede battesimo condivide la sua figliolanza divina e con lui entra nel mistero della sua vita e potenza ora è per la forza della sua croce che siamo salvati e la nostra vita in cristo nasce dalla partecipazione alla sua morte risurrezione ma la croce la risurrezione di cristo sono più che una memoria storica sono una realtà presente resa misticamente attuale dalla liturgia o dall'azione sacra che chiamiamo messa questa è un mistero sacro un'azione divina e umana dove dio e l'uomo condividono un'unica festa di amore di sacrificio e di riconciliazione gesù promisi chiaramente che sarebbe stato presente nella sua chiesa in modo reale e oggettivo come sua guida santificatore e maestro ma in modo speciale nella più concreta e più spirituale di tutte le azioni il suo sommo sacrificio sacerdotale gesù cristo è allora nostro sacerdote e nostra vittima ed è lui che offre misticamente la messa fra di noi davvero presente tra i credenti di oggi proprio come lo era tra i suoi discepoli e l'ultima cena da questo grande centro dell'eugaristia la liturgia si irradia per santificare ogni momento della giornata attraverso le ore canoniche dell'ufficio divino il sacrificio di lode della chiesa l'uomo ha un corpo e un'anima ed entrambi devono svolgere il proprio compito ogni giorno il corpo deve essere nutrito e coperto e a questo fine l'uomo deve lavorare con le proprie mani arare il terreno spaccare la legna prendersi cura del bestiame farsi degli abiti riscaldare la propria casa e arredarla con semplicità ma più importante il nutrimento dell'anima mediante lo studio la lettura la meditazione e la contemplazione delle cose divine l'uomo deve allora innalzare il suo spirito a dio nel ringraziamento nella preghiera nella penitenza e nell'adorazione nessuno di questi aspetti viene trascurato in monastero la regola di benedetto tiene in grande conto la natura umana è sicura di dare all'uomo una vita sana e felice che benedetto chiama scuola del servizio divino sono certo presenti la fatica e sacrificio ma ancor più via la soddisfazione di un compito svolto bene e alla fine a di sopra di tutto c'è la gioia sopranaturale di chi ha donato tutto il suo tempo e suoi pensieri a dio e vive come figlio fedele del suo padre celeste la comunità monastica la vita monastica comunitaria per modello quella dei discepoli riuniti attorno al maestro la comunità a quale suo vero capo cristo la fede per mezzo dello spirito santo guida il monaco verso di lui e gli dona forza consiglio sostegno stimolo e coraggio ma il maestro si rende visibilmente presente tra i suoi discepoli attraverso una figura umana l'abate eletto dalla comunità l'abate è un monaco maturo e ricco d'esperienza capace di presiedere la vita del monastero e di prendersi cura delle necessità spirituali e materiali dei monaci secondo il voto emesso tutti i monaci gli obbediscono in spirito di fede e sotto la sua guida compiono il lavoro che loro richiesto per il bene comune alcuni monaci diventano presbiteri e tra questi vi è chi svolgerà i necessari ministeri sacramentali spirituali o di insegnamento in comunità oppresso gli ospiti tuttavia non si ordina uno presbitero solo perché svolga un lavoro altri in comunità restano monaci senza ricevere gli ordini sacri essi possono scegliere se dedicare un tempo maggiore alla preghiera corale e allo studio oppure al lavoro manuale ma tutti i membri della comunità pregano lavorano manualmente e leggono o studiano in passato esistevano chiaramente due distinte categorie di monaci i coristi e fratelli conversi dal punto di vista canonico questi ultimi erano a un livello diverso rispetto ai primi ma ora la condizione è stata unificata tutti hanno gli stessi diritti e sono giuridicamente equiparati resta la diversità dei ministeri dal momento che alcuni sono attratti maggiormente dal lavoro manuale che non da quello intellettuale altri sono meglio dotati per il servizio del coro il vero ideale monastico non ha mai presentato una rigida uniformità al contrario deve esservi spazio per una diversità di doni e di carismi e nessuno deve tentare di comprimere gli uomini in uno schema per il quale non sono dotati dalla natura o dalla grazia uomini di ogni genere professione carattere di ogni livello sociale di ogni razza e nazione si legano assieme in monastero con vincoli di fede e carità per esperienza hanno imparato che sono tutti i figli di un stesso padre celeste qui non esistono distinzioni razziali o sociali tutti sono uno in cristo e tutti possono unirsi al canto del salmista salmo 133 1 ecco come buono e soave che fratelli vivano insieme principi di base della spiritualità monastica la vocazione monastica indubbiamente una delle più belle nella chiesa di dio la vita contemplativa come viene solitamente definita la vita degli ordini monastici è una vita interamente dedicata al mistero di cristo per vivere la vita di dio che si dona a noi in cristo è una vita totalmente abbandonata allo spirito santo una vita di umiltà di obbedienza di solitudine di silenzio di preghiera in cui si rinuncia ai propri desideri alle proprie abitudini per vivere nella libertà dei figli di dio guidati dallo spirito santo che parla attraverso superiori la regola e le ispirazioni interiori che la sua grazia ci dona è una vita di totale oplazione a dio in unione a gesù che per noi è stato crocifisso ed è risorto dai morti e che vive in noi attraverso suo spirito santo ma per quanto bella semplice ed esaltata possa essere questa vita come ci mostra la tradizione dei padri del monachesimo i monaci sono esseri umani e la fragilità umana tende sempre ad abbassare e distorcere la pienezza di quanto ci è donato da dio soprattutto questo motivo di rammarico il vedere persone piene di buona volantà e generosità che abbracciano la vita monastica solo per ritrovare la loro buona volontà che si è dissipata in futilità e routine anziché vivere la vita monastica nella sua purezza e semplicità si tende sempre a complicarla e a pervertirla con i nostri punti di vista limitati o con i nostri desideri troppo umani si dà un'enfasi esagerata ad alcuni aspetti parziali della vita sbilanciandone così l'equilibrio complessivo oppure si cade in quella miopia spirituale che coglie solo le minuzie e perde di vista l'unità organica in cui si è chiamati a vivere in una parola per comprendere adeguatamente le regole e le osservanze della vita monastica si deve sempre avere presente il vero significato del monachesimo cristo e centro del vivere monastico cristo nella fonte il fine è lui la via del monaco come anche la sua meta le regole le osservanze monastiche le pratiche della scesi e la preghiera devono sempre essere integrate in questa dimensione superiore devono sempre essere viste come parti di una realtà vivente come manifestazioni di una vita divina e non come elementi di un sistema semplici espressioni di mero dovere il monaco compie qualcosa di più che conformarsi a degli ordini e a degli comandi che non riesce a capire egli abbandona la sua volontà al fine di vivere in cristo rinuncia a una libertà di livello inferiore per una superiore ma perché questa rinuncia sia fruttuosa e valida il monaco deve essere consapevole di quanto sta facendo cosa cerchi se vogliamo vivere da monaci dobbiamo tentare di capire cosa sia effettivamente la vita monastica dobbiamo tentare di raggiungere le fonti da cui scaturisce la vita dobbiamo conoscere le nostre radici spirituali per poterle affondare più profondamente nel terreno ma la vocazione monastica è un mistero non può quindi essere esaurientemente espressa in una formula chiara e concisa è un dono di dio e non la comprendiamo appena la riceviamo poiché tutti i doni di dio specialmente quelli spirituali hanno in sé qualcosa della sua intimità e del suo mistero dio si rivelerà a noi nel dono della nostra vocazione ma lo farà con gradualità non deve sorprendere se trascorriamo tutta la nostra vita di monaci approfondendo sempre più il mistero della nostra vocazione che è vita nascosta con cristo in dio se siamo veri monaci dovremo infatti costantemente riscoprire cosa significa essere monaco e non esauriremo mai la pienezza di significato della nostra vocazione quando entriamo in monastero possiamo avere o non avere una precisa coscienza sul perché abbiamo lasciato il mondo possiamo dare una risposta più o meno chiara alla domanda perché sei venuto qui ma questa è una di quelle domande che dovremo porci continuamente nel corso della nostra vita monastica cosa stai facendo qui perché sei venuto qui non che sia una domanda di cui non conosciamo la risposta ma tendiamo a dimenticarla è una domanda che ci mette davanti un significato è un'urgenza nuova man mano che avanziamo nella vita talvolta esitiamo a porci questa domanda temendo che possa minare le fondamenta della nostra vocazione ma è una di quelle domande che non dovrebbero mai essere luse se la prendiamo seriamente rafforzeremo la nostra vocazione se la eludiamo anche con un santo pretesto possiamo aprire la strada all'indeterminazione della nostra vocazione il monaco che cessa di domandarsi amici ad cui venisti forse è cessato di essere monaco quali sono le risposte che diamo alla domanda perché sei venuto qui noi rispondiamo per salvarmi l'anima per condurre una vita di preghiera per fare penitenza dei miei peccati perdonarmi a dio per amare dio sono risposte sufficientemente buone risposte religiose cariche di significato non solo per quanto affermano ma anche per ciò che implicano perché sulle labbra di un cristiano alcune affermazioni devono alla fine significare molto più di quanto dicono all'inizio in se stesse sono la prova di buone disposizioni soggettive ma non portano in alcun modo a una comprensione piena della vita monastica perché la vita monastica non è definibile soltanto dal fatto che ci consente di salvarci l'anima di pregare di far penitenza di amare dio tutte queste cose possono essere realizzate fuori dal monastero e sono vissute da migliaia di persone il monachesimo cristiano non è neppure adeguatamente definito come ricerca di perfezione in giappone ad esempio un zen buddista può entrare in monastero per cercare una vita ritirata e una disciplina spirituale forse sta cercando la realtà più alta sta cercando la liberazione ora se noi entriamo in monastero per cercare la realtà più alta per cercare la perfezione dobbiamo non di meno renderci conto che per noi questo significa qualcosa di più di quanto possa significare per uno zen buddista la nostra vita monastica deve perciò crescere per rendere più chiara e specificamente cristiana l'idea del fine per cui lottiamo ha molto più senso affermare come fa benedetto che noi veniamo in monastero per cercare dio regola benedicti 58 7 che non affermare che veniamo per cercare una perfezione spirituale il fine che cerchiamo non è soltanto qualcosa di interiore a noi stessi qualche dote personale da aggiungere qualche nuovo valore è dio stesso che cerchiamo dire perché se è venuto qui è la stessa cosa che dire che cosa significa cercare dio come sai se lo stai cercando meno come puoi dire la differenza tra cercarlo e non cercarlo quando di fatto è gli un dio nascosto deus absconditus quando mosè parlò a dio dicendo mostrami il tuo volto il signore rispose nessuno può vedermi e vivere eppure gesù ci dice che la vita eterna è conoscere l'unico vero dio che colui che gli ha mandato gesù cristo questa conoscenza di dio che è la vita eterna non la si può ottenere con una semplice speculazione noi giungiamo a conoscere dio per il fatto di essere nati da lui di vivere in lui non possiamo conoscerlo veramente soltanto attraverso la lettura lo studio e la meditazione possiamo arrivare a conoscere dio solo divenendo suoi figli vivendo come tali a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di dio a quelli che credono nel suo nome i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da dio sono stati generati possiamo vivere da figli di dio possiamo conoscere dio solo se viviamo nella carità amati amiamoci gli uni gli altri perché l'amore da dio e chiunque ama è generato da dio e conosce dio ma questa carità non è il semplice amore naturale per l'altro non diventiamo figli di dio per il solo fatto di vivere insieme in una società che si dedica a uno scopo comune condividendo con altri degli interessi comuni non fanno così anche pagani la carità che ci unisce e la carità di cristo nel senso stretto di un amore esercitato dal cuore di cristo e non nel senso generico di un amore copiato dal suo al mandato noi cantiamo congrega vit nos in unum christi amor è l'amore del cuore di cristo per noi e non il nostro amore per lui che ci ha riuniti assieme non potremo amarlo se egli non ci avesse amati per primo la nostra vita monastica una vita in cristo una vita attraverso la quale rimaniamo in cristo condividendo la sua vita partecipando alla sua azione unendoci a lui nel suo culto al padre cristo la nostra vita è lui il senso pieno della nostra vita l'intera sostanza della vita monastica niente ha più significato il monastero se dimentichiamo questa grande verità centrale ma chi è gesù è il figlio di dio è il verbo che si fece carne abitò fra noi la vita monastica come tutta la vita cristiana la vita della chiesa prolunga il mistero dell'incarnazione sulla terra e ci consente di accogliere nei nostri cuori con abbondanza la luce la carità di cristo veniamo in monastero per cercare cristo con il desiderio di poterlo trovare conoscere e arrivare così a vivere in cristo e per mezzo di lui e non appena incominciamo a trovarlo incominciamo al tempo stesso ad accorgerci che stavamo già vivendo in lui e per mezzo di lui perché egli ci ha amati per primo avessi Grazie a tutti.